Buongiorno a tutti, in questo video vi parlerò delle proprietà e dei benefici che si possono ottenere dall'utilizzo dell'avena, sia in campo alimentare che in campo cosmetico. Quindi prepareremo insieme una crema a mani per pelli secchi all'avena, poi prepareremo anche un'ottima colazione. Invece in una seconda parte del video vi spiegherò anche come preparare una tintura o estratto idroalcolico di avena e una maschera viso. L'avena è un cereale che nell'antichità non veniva vista di buon occhio, veniva infatti chiamata mala erba e utilizzata solo per l'alimentazione degli animali. Poi, in seguito, invece, venne rivalutata per le sue ottime qualità nutritive e dermatologiche. Possiede, per esempio, una buona percentuale di lisina, regola la tiroide, regola anche il colesterolo perché possiede alcuni composti steroidei. Aiuta poi a stabilizzare i livelli del glucosio nel sangue proprio perché ha un basso indice glicemico, quindi è utile anche per chi è diabetico. Inoltre, essendo molto nutriente, è molto indicato per i convalescenti e per le donne in allattamento. Ma è anche ricchissima di sali minerali, per esempio calcio, magnesio, ferro, manganese e le vitamine del gruppo B. Inoltre, è una buona fonte di proteine. Se ne fa largo uso nelle zone nordiche, nel nord Europa, questo soprattutto perché viene utilizzata la farina d'avena, i ciocchi d'avena, per preparare il porridge, che è un ottimo piatto, per esempio, per la colazione. Oppure viene anche utilizzato per la distillazione del whisky e della birra. È anche un effetto di armonizzare il sistema nervoso, quindi è utile in caso di insonni e esaurimento nervoso. Potreste consumare i ciocchi d'avena a colazione o preparando un porridge, oppure potreste prendere uno yogurt bianco, tagliare a pezzettini un frutto, poi aggiungere un cucchiaio di fiocchi d'avena e due mandorle. In questo modo avrete una colazione sana e nutriente. Per quanto riguarda invece l'uso in cosmetica, l'avena ha un'elevata dermocompatibilità, per questo è largamente impiegata in molte forme cosmetiche, per esempio in paste, come quelle che vengono utilizzate per i bambini, ma anche tutti quei prodotti che servono per cuti delicate, arrossabili, perché ha proprietà idratanti e lenitive. Viene utilizzata anche per rendere tollerati dalla pelle dei detergenti, quindi viene utilizzata per esempio per arricchire bagno schiuma o saponi. Quindi può essere utilizzata per preparare tutti quei cosmetici adatti a pelli delicate, facilmente arrossabili, ma anche pelli con tendenza acneica o anche pelli mature, prodotti dopo sole, emollienti per pelli secchi, sensibili, irritate. Diciamo che ha tutte queste proprietà, proprio perché ha un potere filmogeno, quindi applicato sulla superficie della pelle, la copre quindi dai agenti chimici e fisici esterni ed ha anche un piacevole tocco morbido e vellutato alla pelle. Dunque con l'avena ho preparato questa crema mani, è una crema molto densa e molto molto nutriente, infatti ne basta anche una piccola quantità e rende la pelle vellutata e subito idratata, anche grazie alla presenza comunque di altri ingredienti che ora vi elencherò. Quindi è adatta a pelli secche, pelli mature, ma anche pelli delicate. Quindi è un'ottima crema per esempio da utilizzare per le mani durante l'inverno. Per preparare questa crema, oltre all'avena, ho utilizzato una piccola parte di cera d'api. La cera d'api, in particolare ho utilizzato questa qui gialla, che la potete acquistare dall'apicoltore, oppure potete acquistare anche quella bianca sui siti per esempio Romazon, su siti online. La cera d'api è molto utile perché contribuisce a ricostruire i lipidi presenti sulla superficie della pelle. Quindi aiuta la pelle a acquistare la sua funzione di barriera. Venneva utilizzata già nell'antico Egitto la cera d'api per preparare delle creme. Venneva utilizzata anche dai Romani, per esempio il medico Galeno aveva creato una crema a base di cera d'api che poi fu trasformata in quella che oggi viene chiamata cold cream. Quindi ha proprietà molto utili per il trattamento di pelli secche e irritabili. Oltre alla cera d'api ho utilizzato anche il miele. Il miele abbiamo visto nel video precedente le qualità che possiede per il trattamento dei capelli. Per quanto riguarda la pelle vediamo che ha proprietà comunque le nitive, antinfiammatorie, idratanti e antinvecchiamento. Quindi per questo l'ho aggiunta alla preparazione. Poi ho utilizzato l'olio di nocciole. L'olio di nocciole è molto utile per ingiovanire la pelle. Contiene infatti vitamine A, la vitamina E, acidi grassi. Quindi è utile anche per pelli irritate e pelli sensibili. Ha infatti ottime proprietà antinfiammatorie e ciclotizzanti per curare anche le pelli secche. Quindi in una crema a mani ci stava benissimo. Per questo l'ho aggiunta. Ho aggiunto anche l'olio di pandorle dolci che è l'olio più conosciuto per ammorbidire la pelle, per idratarla, anche soprattutto per pelli secche e sensibili. Ho utilizzato il burro di karité per la sua azione idratante e lenitiva, soprattutto per le pelli secche, pelli sensibili, infiammate, ma utile anche per promuovere il rinnovamento delle cellule e in caso di, per esempio, pelle irritata, quindi può essere usato per piccole ferite. Per questo l'ho utilizzato nella crema a mani, dato che magari in inverno è possibile che la pelle si spatti un po'. Quindi il burro di karité contribuisce a curare queste ferite. Poi ho utilizzato l'olio essenziale di limone perché è ottimo per rinforzare le unghie, ma è anche uno sbiancante naturale sia per le unghie che per le mani. Quindi anche nel caso in cui si tratta di pelli mature, quindi per eliminare o comunque attenuare un po' le macchie dell'età è utile utilizzare l'olio essenziale di limone. Poi ho utilizzato il Cetiol Sandsoft, che è un olio sintetico, però l'ho utilizzato in piccola percentuale perché rende la crema meno untuosa e dà un tocco più setoso alla crema. Poi ho utilizzato il Dry Flow, questa polvere, si tratta di un amido modificato che serve per dare un effetto asciutto e setoso alla crema. Infatti essorbe l'eccesso di unto, di lucidità della crema. È liposolubile, quindi prima di aggiungerla alla crema va stemperata in un po' di olio o in un po' di crema. Per dare poi una profumazione di miele e limone alla crema, quindi oltre all'olio essenziale di limone, ho aggiunto anche qualche goccia di questa fragranza al miele. L'ho acquistato sul sito romanzone. Quando riguarda la tecnica con cui ho preparato questa crema, ho voluto provare una tecnica francese che si chiama Wampo. Questa tecnica prevede di utilizzare un'unica fase, quindi di mettere a bagnomaria sia oli che in fase acquosa per evitare di utilizzare più contenitori e perdere anche più tempo. Diciamo che è stato un espedimento proprio perché è una tecnica che da un lato fa utilizzare meno contenitori, per esempio rende il processo più semplice o più rapido. Però dall'altro ci sono degli accorgimenti da seguire. Prima di tutto non tutti gli emulsionanti vanno bene, bisogna utilizzare alcuni tipi di emulsionanti. Per esempio ho utilizzato il lame creme, ma ho letto che anche l'olive mille va bene. Però se ne devo usare una percentuale maggiore rispetto a quella che useremmo preparando una crema normalmente, proprio perché c'è la possibilità che le due fasi non si uniscono, quindi bisogna aggiungere un po' più di emulsionante. Inoltre non possiamo aggiungere, per esempio, quegli oli termolabili come possono essere gli oli oliti, perché ovviamente si rovinerebbero messi a bagnomaria. Nel sito francese che ho trovato, si dice che raggiunta la temperatura di 40 gradi, possono essere aggiunti i vari attivi. Però io comunque ho aspettato che la crema si raffreddasse e ho sempre mescolato bene, perché il rischio comunque che le due fasi si separino è molto alta. E ho evitato anche di aggiungere comunque altri oli nella fase C, cioè nel momento in cui la crema era fredda. Ho solo aggiunto qualche goccia di oli essenziale e la fragranza. Adesso possiamo passare alla preparazione della crema. Vi posso dire che è una crema molto nutriente, oltre che sulle mani potete utilizzarla anche su parti del corpo molto secche, per esempio sui gomiti o sulle ginocchia. O comunque se avete pelli molto secche, anche in altre parti del corpo. Come vi ho già detto, ho utilizzato infatti anche la scela d'api, che oltre ad addensare la crema, ha reso comunque la crema molto più nutriente. Come sempre vi ricordo di pulire e sterilizzare sempre i vostri strumenti con alcool alimentare e di fare sempre un test allergico prima di utilizzare i prodotti. Quindi applicate una piccola parte sul polso, aspettate 24 ore e se non si sono verificati i fenomeni allergici allora potete utilizzare la crema. Grazie. 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 Grazie.